In questo momento stiamo lavorando molto, l'obiettivo è raggiungibile, 500.000 firme, nel nostro piccolo cerchiamo di raggruppare quello che possiamo, puntiamo arrivare a 400, almeno su Fano, ma il problema è nazionale o provinciale? La gente si sta avvicinando ai banchetti, sempre con maggior interesse, chiaramente il tantamo doveva partire è partito e quindi siamo fiduciosi, questo è l'ultimo weekend perché entro settembre dobbiamo consegnare tutto a Roma, quindi sarà il nostro rush finale e chiediamo alle persone di attivarsi. Il sabato mattina siamo in Palazzo Cabuccini durante il mercato e poi chi vuole può contattarci, trova i numeri nei nostri riferimenti e può cercarci per la raccolta. Di trivellazioni se ne parlerà venerdì in Consiglio Comunale alle ore 17, ci saranno dei relatori importanti, di chi si trova? Sì, dunque sono quattro temi di referendum, di questi quattro uno riguarda le trivellazioni e venerdì alle 17 verrà il professor Leonardo Setti dell'Università di Bologna perché affronterà in maniera specifica il tema delle trivellazioni, in quanto ai banchetti non si riesce ad affrontare con dettaglio ogni argomento e verrà a parlarci di quali sono i difetti, i limiti di questo provvedimento e quindi i referendum che sono collegati sono per fermare le trivellazioni in Adriatico che ci interessano particolarmente. Quindi alle 17 venerdì sarà il Consiglio Comunale, chi viene può approfondire il tema e ovviamente potrà, speriamo, che voglia firmare per questi tre e per gli altri cinque requisiti referendari.